Prima ci sono state le bombe che nella notte hanno martellato Cernikiv, colpito la sede della Croce Rossa a Mariupol e diverse località alla periferia di Kiev. Poi, a smorzare del tutto le speranze che l'incontro di ieri ad Istanbul avesse fatto registrare concreti passi avanti nel negoziato tra Mosca e Kiev, è arrivata anche una dichiarazione del Cremlino. Nessuna svolta, c'è ancora molto lavoro da fare e anche se in serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato di progressi significativi sui temi della neutralità dell'Ucraina e della sua rinuncia al nucleare, i nodi veri da sciogliere, restano quelli legati allo status del Donbass e della Crimea e ad affrontarli potrebbero essere direttamente i due presidenti, Putin e Zelensky, in un futuro vertice che, e questo è già un risultato, non viene più considerato impossibile. Il lavoro della diplomazia non si ferma. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato oggi il collega cinese Wang Yi. La richiesta ufficiale di Pechino è di continuare i colloqui nonostante le difficoltà ed arrivare quanto prima ad un cessate il fuoco, ma Wang e Lavrov hanno anche detto di voler parlare con una sola voce negli affari globali con l'obiettivo di andare verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico. Pechino dunque conferma la sua scelta di campo e non escluso che possa aiutare l'alleato inviando in Russia camion cingolati da trasporto e razioni di cibo. In serata il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico di circa un'ora con Vladimir Putin. Nella telefonata, secondo quanto reso noto poco fa dal Cremlino, si è parlato dei negoziati di Istanbul e della questione del gas per il quale ora la Russia, violando i contratti, chiede il pagamento in rubli. Stessi temi di un'altra telefonata che Putin ha avuto nel pomeriggio con il cancelliere tedesco sciolze.